Quello dei lunissanti nei centri anglonesi di Castelsardo e di Tergo è uno dei ritti della settimana santa più antichi e conosciuti della Sardegna. La confraternita dell'oratorio di Santa Croce sfila in processione con i misteri incappucciati che rappresentano la passione, la crocifissione e la deposizione di Cristo, intervallati da tre cori a quattro voci, miserere, stabat, mater e jesu, di origine pre-gregoriana. Alle sette del mattino scatta il primo appuntamento della settimana santa castellanese nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dopo la prima messa gli apostoli escono dalla chiesa incappucciati con i misteri fra le mani. Il primo percorso è breve e si conclude al bastione davanti al sole che sorge. Alle 11 nella chiesa di Tergo si tiene la seconda tappa, la celebrazione eucaristica solenne alla presenza del vescovo di Tempio Sebastiano Sanguinetti con la presentazione dei misteri alla Madonna di Tergo nella sua chiesa. Più tardi la festa campestre per tornare di nuovo in chiesa alle 15, reindossare la veste, riprendere i misteri e riavviarsi alla rocca. La tradizione vuole che il percorso di rientro duri sino al tramonto e che a quell'ora si rientri nell'antica città. La processione nel rispetto della consuetudine riprende vita alle 20 e 30 con partenza dalla cattedrale di Sant'Antonio Abate nella parte bassa del centro storico. Da lì si snoda nelle antiche strade attraverso gli stretti passaggi su e giù dalle anguste scale sino a tardanotte, quando si concluderà nello stesso luogo da dove è partita al mattino. La chiesa di Santa Maria delle Grazie.